Ha capito? Le vostre sono minacce, non le mie. Perché io non minaccio. Sette colori mi appia schiaffi, da mo' che ero venuto. Cellone scrive, ragazzi non è come pensate, questo era sotto al post Instagram, se fossimo andati con lo smalto alle unghie sarebbe andata diversamente. E vabbè, è un piccolo commento. C'è una cosa da dire che non ha senso, questa frase. Da quando tu l'hai mandata nel gruppo mi sono veramente spremuto, ho provato anche a essere molto fantasi, non c'è senso. Saki, sono d'accordo con te, fai pace con la tua mascolinità Marcello, ho pensato la stessa cosa. Ma ascoltiamo le storie che ha poi rimosso il buon Marcellone, perché comunque lui dice giustamente che non mi minaccia, minacciandomi. È curiosa come cosa. Concettuale come... No, farite, 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 per fortuna farite. Ma poi ce l'ho una visione, ma proprio voglio sentirla prima perché non mi ricordo. Ti è scappato. È educativo forse, capito? Non è una minaccia, è una voglia di... Sì, sì. Non se ne è accorto, secondo me, per non dire altro. Buongiorno a tutti, ragazzi. Pure stamattina non posso aprire Instagram, perché ovviamente... Letteralmente fatto. Mentre sta postando. Vabbè, scemo a stare. Magari è un ricaricamento del TikTok. Potrebbe, potrebbe. La butto lì. Cosa è cazzo, è rata, è stamarite. No, Marco, no! Impossibile ridere. Vedi qual è il paradosso, però. No, però vedi qual è il paradosso. Parte Marco tremendo. Vedi qual è il paradosso. Cioè, io devo farmi i problemi perché poi quello si sente offeso o qualcuno cerca di renderlo offeso davanti a potenziali minacce. Cioè, vi rendete conto del livello di follia di tutto questo, di tutto questo scenario, no? Capiamo in anticipo, allora. Capiamo, vai, capiamo. Visto che ancora non l'abbiamo cominciato. Abbiamo Dario Moccia. Eccolo, capiamo. Ah, perché lui è quello che capisce? No. Ah, no, come si pede. Dario Moccia col ma... Ma quando è mai stato Dario Moccia col ma... Come no? Sì, sì, come Topolino. Carino. Vabbè, a parte quale mantello. Ma dico... Allora, come dobbiamo reactarla questa cosa? Eh, in maniera umana. Non abbiamo ancora cominciato. Ci sarà una volta che reacteremo a una roba di loro, senza che nessuno si senta toccato, offeso, oppure che non ci sia un problema. No, voglio vedere se c'è un metodo. Magari c'è un metodo. Lo impariamo, lo utilizziamo. Proviamo un metodo diverso. Sì, stai, sei arrivato in tempo. Non parliamo, non diciamo nulla, guardiamo noi. Chi è che si offende? Diamo ragione, non lo so. Che facciamo? Ma guarda, io penso che me ne infischerò altamente dell'umore, del sentimento di Marcello, dal momento che si approccia a me in maniera comunque intimidatoria. Ma no, ma anche a me frega un cazzo, era semplicemente per fare l'esperimento sociale, per vedere se riuscivamo nell'intento. C'è un'idea, c'è un'idea, c'è un'idea, c'è un'idea. C'è un'idea, le proviamo tutte e poi facciamo scegliere a lui. Allora, facciamo la prima sincera, cioè quello che realmente avremmo detto nell'ipotesi, no? Poi ragione totale. Poi facciamo ragione totale. Poi follia. Follia, sì, quello che c'è. Proviamo. Poi silenzio. Sì, una silenziosa. Allora, facciamo la prima silenziosa, ok? Annuiamo. Marcello, mi raccomando, poi diccelo che ti diamo in post, ok? Cioè, pubblichiamo la live con la scelta che preferisci tu. Tagliamo le tre che non è una scelta. Ovvio, ovvio, ovvio. Questa è un'esclusiva per voi abbonati. Allora, take uno, silenzio. Ce l'abbiamo, Marco? I ciac. Mi è peccato. Con il regista, cianciac, ma la roba anche di... Ma che cazzo devo fare? Aspettare, aspetta, 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 aspetta che non fallo bene. Oh, silenzio. Faresemente due libri, non un ciaccio. Vabbè, comunque... Dai, ciac tre, vai. Rifalla, rifalla, 4. Ciac, 4. Senza ciac. Buongiorno a tutti, ragazzi. sicuro che stamattina non posso aprire Instagram perché ovviamente sono sommerso dei messaggi riguardanti il discorso del Cerbero, di Marra e di tutte queste cazzate che stanno a continuare a dire una cosa indecente proprio ma io vi voglio capire una cosa, ma in Italia non c'è nient'altro da dire c'è da parla solo di scuola dei botti ok? Vatta a mettere smart numero un per cazzo almeno, far favore che non te reggo più già mi stai già a dare fastidio ma capito? Le vostre sono minacce non le mie, perché io non minaccio sette colori a pia schiaffi, da mo' che ero venuto a voi che chiamavi la polizia dei carabinieri il tempo che arrivava non lo sai che t'avevo fatto t'avevo fatto pure a permanente oltre che con smarta e unghie suor suor per come cazzo te chiami te, mister bin ok seconda, questa non è la madre real, real sicuro che stamattina non posso aprire Instagram perché ovviamente sono sommerso dei messaggi ricordanti il discorso del Cerbero, De Marra e di tutte ste cazzate che stanno continuo a dire una cosa indecente proprio vabbè, noi siamo indecenti, noi siamo indecenti beh, per le unghie sicuramente, per lo smart peccato che non ce l'ho più lo smart infatti pure io mi metto peccato tu ce l'hai? allora, mettilo bene in mostra, l'unico che ce l'ha fai io vedere bene come ti chiami? suor per eira suor per eira che chi è? suor per eira non ne ho idea veramente suor per eira ma anche il sor che poteva essere tipo alla romana poi dice proprio suor una suora in Italia non c'è nient'altro da dire in Italia non c'è nient'altro da dire in Italia non c'è nient'altro da dire in Italia a me invece è venuta in mente un'altra canzone Franco Califano che dama e Franco 126 cos'è l'amore? vabbè non è un featuring è un featuring possumo sì ok è un sample di Califano non è un sample è una canzone mai uscita di Califano eh dico nel senso però utilizzata contro la sua volontà ah e si hanno scongelato solo da scuola dei botti solo ok vatti a metto smart numero un per cazzo almeno far ma chi ti ha rotto il cazzo Marcello ma chi ti si è inculato di strapezza ma chi? ma chi? ma nella maggior parte allora nella maggior parte delle live quelle reaction proprio quindi dove si è fatto il suo nome? tu non c'eri no nel Cicalone Gate non è stato menzionato però tu sei quello che a livello di tag ha più followers e in questo momento hai più reach perché stai pure capito con fede secondo me non per quello secondo me perché c'aveva l'arma fondamentale cioè le unghie o smalto a me lo so come mettiamo tutti a lui si è indignato su una persona non presente quando si parlava di lui perché c'ha lo smalto sai può essere ma perché vi faccio questa domanda secondo me per i social conviene di più io la butto lì non lo so ma secondo voi cioè secondo voi ha visto le live pure quando è venuto qua si era presa con Davide però qua avevamo avuto un dibattito tipetto particolare ma vuol essere che ancora per quello eh per quello che sto dì non l'ha viste le live ragazzi non gli è rimasta la roba del boomer dei cicalone za anni secondo me le live ne aveva manco viste non l'ha viste semplicemente ma certo che non l'ha viste qualcosa sulle live ma non l'ha viste no a lui gli è rimasta ma noi abbiamo detto un cazzo a Marcello non ti reggo più non ti reggo più pure questa bella canzone non ti reggo più questa parla solo con città si vedi ma secondo me questa è grande Marcello questa è cultura musicale ufficialmente invitato per Cripice Marcello si 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 per farmi un tatuaggio sulla cappella se vuole se vuole ah che dici grevissima 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 questa guarda la sua cappella fa malissimo sei un pazzo però ho chiesto a Laurangela beh abbiamo parlato approfonditamente io a Laurangela dimmi di più no ho fatto questa domanda l'avevo fatta a lui questo poi abbiamo proseguito la conversazione ma hai parlato immagino chi non parla della propria cappella proseguendo queste conversazioni in privato ok vatti a metto smart numero 1 per cazzo almeno far favore che non ti reggo più già mi stai già da fastidio ma capito le vostre sono minacce non le mie perché io non minaccio sette voloni a piaschiare fin da mo' che ero venuto poi ci chiamavi la polizia dei carabinieri il tempo che arrivava non lo sai che ti avevo fatto ti avevo fatto pure a permanente oltre a con smart e unghie suor ma le minacce quali erano quali erano le minacce quali erano le nostre sono minacce quali erano forse le tue stiamo calmi stiamo calmi liacciate un privato che hai fatto siamo calmi non lo so ragazzi nessun privato non ho mai scritto a Marcello in privato no non lo so ragazzi ditemi anche voi in chat quali minacce abbiamo fatto noi a Marcello Marra non ho capito per essere stato l'appuntamento di Marcello per il tatuaggio al cazzo si fa ancora ma non lo so lui in realtà può venire quando vuole poi si fa in studio da lui o in studio da noi perché poi noi abbiamo studiato il tatuaggio ma non solo è aperto al pubblico il nostro a differenza sua quindi se ne lava giustamente le mani e tanto al culo vivo sempre io no grazie mister sempre colpa de Marra sempre Marra Marra il ponzio pilato pelato tra l'altro prima mi nasce se non ti metti lo smalto ti do un bacino come cazzo ti chiami te mister Bin mister Bin no ma fai senti prima la roba della suor perché forse ho solo interpretato io Marta e unghie suor for per come